I prezzi delle bottiglie di vetro sono quasi raddoppiati, frangere le olive poi costa da 2 a 9 euro in più al quintale. Insomma, sono i settori di punta dell'agricoltura aretina, vino ed olio quelli più penalizzati. Se un'azienda vitivinicola nel 2021 per le bottiglie di vino ha speso 188 centesimi a pezzo, quest'anno ne spende 288 con un rincaro del 53%, spiega Massimiliano Dindalini, direttore della CIA Arezzo. I costi sono in salita anche per le aziende vivaisti che prosegue a causa degli aumenti dei prezzi del gasolio per il riscaldamento delle serre, di concimmi fertilizzanti e raddoppio delle bollette per l'energia elettrica. Ne escono provati anche i produttori di extravergine d'oliva. Il prezzo della molitura passerà da circa 16 euro per quintale di olive frante ad una forbice di 18-25 euro al quintale, con ripercussioni dirette per aziende e consumatori finali. Le aziende agricole, commenta poi il presidente Serena Stefani, sono le più esposte alle crisi, non solo quelle economiche e sociali, ma anche quelle climatiche. Da qui l'appello accorato al nuovo governo perché prenda seriamente misure a sostegno del settore con urgenza, perché, conclude la CIA, servono meno parole e più fatti.